Bella ragazzi, amici e amiche, Construction Simulator, andiamo a lavorare con la Ruspa. Allora, io questa partita l'avevo già iniziata, però vorrei magari iniziarne una nuova con voi. Quindi, scegliamo i personaggi. Eccolo qua, c'è la tipa, c'è lui, c'è lui, c'è lui, c'è lei, c'è lei, c'è lei e c'è lui. Allora, a me piace come personaggio lui, accettiamo, aspetto. Allora, colore di base, ci può stare il giallo, mi piace il giallo. Colore di P, rosso, rosso mi piace. E il metto, allora, vediamo un attimo del metto. Questo, come quello che voglio nella foto, questo, dai, questo. Allora, protezione udito, no, intanto, occhialini neanche, siamo tranquillissimi. Ok, nome, Marco Drums, Games. Vai, accetta. No. Inizia la tua partita. Ok, crea una nuova impresa, Europa. Facciamo questa qua con Scavatorino. Nome, chiamiamo Drums SPA Scavi. Ok, ci sta, ci sta. Per differenziare un po' da quell'altro. Inizia la nuova partita, vai. Allora, qui abbiamo gioco The One Edition. Oggi ho fatto il primo pezzo registrato, come lo state vedendo voi adesso, su YouTube. E poi porteremo la live stasera. Io, il mitico Shardler, eh. Un inizio incerto. Sei a un punto morto della tua vita. Stai riflettendo sul futuro. Quando il destino bussa alla tua porta, il telefono squilla nel cuore della notte. Eh, heip. Amico di famiglia di lunga data. Titolare di una dita di costruzioni del posto. C'è un brucio temporale. Ha bisogno del tuo aiuto. Ancora non sai quanto questa notte di tempesta cambierà il corso della tua vita. Ci sta. Beh, io ero già, ero già però tutto bello assettato, eh. C'erano già tutti i vestiti fatti bene. Allora, corriamo. Allora, io ho visto che oggi ho fatto un po' fatica a trovare dove era, perché c'erano i puntini blu piccoli. Allora, heip è giù di qua. Bravo, heip. Bello camion. Parliamo. Ciao. Ti ricordi di me? Mi freschi la memoria, sono heip. Ho sempre saputo che avresti fatto strada nel mondo dell'esilizia. La tua occasione di mostrarlo. Urgentemente. Diamoci la boss. Un lutto temporale ieri notte. Ho fatto un bel po' di danni. Adesso non vediamo se stiamo a rinforzare. Una frana ai pressi del ponte, che porta in paese. Un palo elettrico. E sgomberà la strada. Va bene. Fa la gommata. Ma devo andare a prenderla. E' meglio se ti metti il volante, a pianale e vai avanti tu. Ok. Va bene. Andiamo. Heip. Allora, apriamo il menu radiale. Accendiamo le luci. Perfetto. Acceleriamo. Allora, lui fa quella specie di freccette che corrono. Ok. Ok. Approfittiamo per farvi vedere l'interno. Ecco qua. Allora, l'interno non mi fa spostarla visuale, eh? Ah, sì. Come faccio a vedere dagli specchietti? Ok. Allora, l'omino è fighissimo. Il contagiri ci sta. Credo che il cambio è automatico, credo, eh? Che cosa è successo? Perché il camion è saltato per aria? Vabbè. Accendiamo il generatore. Un piccolo boogie bug. Boogie bug. Ok. Accendiamo il generatore. Luci è tutto a spiano. Dai. Pala gommata. Della cat. Cat el pillar. Ok. La pala gommata. Ghiaia. Sabbia. O terra. Perfetto. Ecco. Allora, qui bisogna stare un po' attenti. Perché? Perché sennò sgrappiamo su tutto. Allora, la visuale non si può cambiare. La fa vedere lui. Eppure. Eppure stamattina la visuale me la faceva cambiare. Aspetta. 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 Eh, infatti. Ah, allora la blocca. Ok, 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 ecco come funziona la visuale. Perfetto. Perfetto, così mi piace come visuale. Adesso ve la faccio vedere se sbagli la manovra fa un bordello. Ve la faccio vedere dal dentro. Ok. Ah, è già finito il lavoro, ma in realtà non ho sbloccato tutto. Perfetto, eh. Perfetto. Ok. Porca loca. Che bote che dà, ragazzi, quando si sbaglia la manovra, eh. Ok. Tac. Fa la gommacchina. Allora, a volte il mio cervello capisce, a volte abbiamo l'energia mattutina anche, eh, raga. Cos'è quel martello? Che cos'è quel martello fighissimo? Che bello il martello. Che bello il martello. Hai trovato un martello. Hai trovato un collezionabile? Ah, 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 adesso la strada è libera, adesso mi piace. Quindi, allora, no, tac, da esterno, ok, vedete? Facciamo un bel po' di... Perfetto. Ok. Parliamo con Hype, o Heip, o Hoop. Vai, Hape. La strada è nuova percorribile, almeno per metà. Ben fatto. La nuova missione non è ancora finita. Il sistema di rifrigirazione del supermercato della zona non funziona. C'è un generatore portatile caricato sul camion. Dobbiamo portarlo lì alla svelta e rimettere in funzione il frigorifero prima che il cibo vada male. Ok. Ciao, bello. Non potevi farlo tu? No, eh? Si rompermi la scatola a me. Vabbè. Che che è la nuova? Oh. Ok. Allora, sì. Schiacciando il tasto potete fare quello che volete. Io lo vorrei vedere da fuori. Era dietro, era dietro qua. Ok. Apri e chiude sponde. Possiamo anche aprire e chiudere sponde, anche se non serve. Luce. Cambia modalità. Cambia modalità. Ok. 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 ok allora questi tipo la visuale invece l'altra la facciamo come vogliamo noi ok quindi ah c'è un ok ho visto adesso allora siamo e buttiamo fuori perché bisogna sempre andare un po al contrario raga perfetto accende il generatore la cosa qui la possiamo aspetta allora tiriamo indietro la gru allora poi la tiriamo su la tiriamo giù perfetto chiediamo le sponde grande poi usciamo e accendiamo oh generators grandi raghi ah vedi un palozzo è caduto oh c'è anche una bella gruettina lì tra l'altro l'ho vista adesso parliamo con api adangiato il tetto e alcuni cavi necessario fuori i materiali edili dobbiamo rimuovere dal tetto la lampada caduta non c'è tempo va bene sono d'accordo questo è allora non più distrutto con cosa la 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 rimuoviamo con la gru nooo stai scherzando mi fa andare sulla gru sali fantastico che figa la gru allora così vale così gira ok 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 tranquillo è un po' ok è un po' 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 ok eccolo qui sto guidando una gru ah cerchio ah bello questa era la parte che mi mancava tu fantasma di eber 125k cablata bellissima bellissima ok servono materiali va bene e quindi dove andiamo a prenderli? dai indicatore per arrivare a destinazione oh c'è le macchine attenzione si si lo so che c'è la modalità interno o esterno comunque non vedo scappi graficamente spettacolare ci stiamo ci stiamo ci stiamo proprio il track simulator si prende la multa a pagare a passare col rosso via 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 andiamo 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 si sfatta la luce 58% ok 150 metri ci siamo eh portando veramente forte grande hammer jail brasto fracken dai dai che dobbiamo caricarli con il mulet bello 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 allora se vuoi puoi anche usare per caricare le macchine di costruzione servite di nuovo della gru da carico no 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 absolute allora quindi tutto apri spondi gru della gru il gru della gru vado col muletto muletto ok 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 è lì cliccone chà oh 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 voglio vedere dal muletto dentro ok giù bello io non so perché i muletti fanno il volantino piccolo ci sono dei giocattoli ok caspita sto stile è tanta roba tanta roba un po' un po' un po' indietro ok ok allora ci sta ragazzi ci sta di brutto questo gioco 25.000 dai che è verde dai che è verde dai che è verde fammi passare col verde grazie con l'unica problematica era proprio vicino l'aveva detto lui ok quindi io farei una cosa del genere secondo me visto che è una gruettina portata di mano tra l'altro che fortuna che stavano facendo la casetta qua ooo ok grande si a livello di di giocabilità è fantastico raga oh ma sta gru è tanta roba che scendiamo giù dalla gruettina lieber al caib lieber grande lieber parla con heip heip hai visto che lavoro che ti ho fatto un bel aumento di stipendio amico wow soddisfatto abbiamo le pennate appena arrivata l'altra chiamata un'automobile si filtra in uno scavo in cantiere porca lavoro degno di vieto accettato ok allora andiamo con lui col man vai dove dobbiamo andare la zona dell'incidente ma non dovrebbe essere un altro cambio sta arrivando il giorno eh e vai questi camion c'hanno le marce forte eh guardate si dopo passo a riparare il cartello scusate buonasera polizia ma come ho fatto a finir dentro dai ma come hai fatto non c'era il buco non ti sei accorti ma dai una macchina bella poliziai sta riprendendo vita il paese ok devo andare sullo scalatore la caviamo dentro no non posso cavarla fuori così ok va bene allora niente devo parlare con lui e allora ape l'ho cercato di cavarla fuori così ma non sono riuscito ignora ok ok va bene la questione la sapevo anche ma allora carica il veicolo accidentato dimmi che posso caricarlo con questo dimmi che posso caricarlo con questo dai bam bam ok wow come come un giocattolino è un giocattolino eh oh ok ok il tubo il tubo urca loca il cartello maledetto oh oh si è scastrato bravissimo giù giù tutto bravissimo bravissimo il tubo lo carichiamo sempre qua ok ok sali sul camion La spacchettiamo qua nell'angolo, perfetto, perfetto, dai 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 che portiamo il tubo danneggiato, dai che lo portiamo. Allora qui noi dobbiamo buttare la roba. Ok, allora, cambiamo modalità, ok, quindi, così si alza, così si alza, così si si alza quell'altra, così si gira, così si prende, così si prende la macchina. Ok. Ok, lo vedete, il puntino, facciamo così. Ok, giù. Ulca loca, è che questa gru è figa, va giù veramente... ok, perfetto. Va giù veloce, eh. Va giù veloce, va giù veloce, va giù veloce, va giù veloce. Due boschi. Ok. Ok. Allora, tak. 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 Pam. Quindi qua dobbiamo recuperare solo un tubo, eh. Ok. 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 e giù tutto grande grande drum ok luce telecamera guida quindi in pratica lui fa ok andiamo al mega posto dell'incidente ok ragazzi perchè mi fanno andare di lì perchè mi fanno andare di lì ah c'è una motivazione non lo so per farmi vedere che si fa così e non si fa la retro va bene sono anche d'accordo con te vai manca pochissimo nella zona dell'incidente drift drums drift drums con camion raga qui è tanta roba anni e anni di esperienza a gran turismo grande grande drum ok 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 va bene ragazzi al prossimo episodio per farvi vedere come finisce questo tubo quindi vi lascio un po' di suspense a vedere se riusciremo a mettere un tubo oppure no e ci vediamo al provare live di questo gioco e a tanti tanti altri momenti insieme mi raccomando venire su twitch a vederle live o comunque seguite anche i video qua su youtube di questo gioco e quando giocherò con il shader design ciao amici mi raccomando di iscrivervi anche a linktree che è il link che vi porta facebook, instagram, tiktok, twitch e discord e lascio tutti i link in descrizione ciao amici alla prossima grazie a tutti